Inizia Oroscopando dal 14 al 20 febbraio, ovviamente da questa mattina lo potete trovare su www.spettacolandotv.it e da lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 9.30 su Cusano Italia TV, canale 264 del Digitale Terrestre nella trasmissione Mattina con noi condotta da Tommaso Franchi e Annalisa Colavito. Lì farò l'oroscopo quotidiano, quindi seguite, 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 canale 264, mi raccomando. Inoltre lunedì alle ore 18.35 e da martedì a venerdì alle 19.05, sempre sul canale 264 di Cusano Italia TV nella trasmissione pomeriggio con noi, sarò in compagnia di Francesco Acchiardi e Deborah Caroletti per il gioco Viziati. Ovviamente con le delizie di Ternana Cuore Umbro e chiunque indovinerà il personaggio misterioso che di volta in volta verrà scelto, appunto dai conduttori e anche da me qualche volta, riuscirete, se indovinate, a vincere le delizie di Ternana Cuore Umbro e l'oroscopo in diretta, mio ovviamente, in diretta, quindi se chiamate sarete ben accolti da tutta la redazione, ma soprattutto da me, Paola Aspri, da Francesco Acchiardi e Deborah Caroletti. Quindi mi raccomando partecipate al gioco Viziati. Il lunedì poi alle 19.05 a Radio Cusano Campus, la frequenza è 80.900, nella trasmissione Baghera di Misa Urbano, io vi racconterò quello che succederà per tutta la settimana e poi sempre dal lunedì al venerdì, sempre alle ore 14.30 su 80.900, nella trasmissione Cosa succede in città di Emanuela Valente, io mi occuperò dei personaggi dello spettacolo, ovviamente, vi racconterò un po' il gossip televisivo, ok? Quindi mi raccomando, seguite, sono quei 10 minuti che danno brio alla vostra giornata e soprattutto alla conduzione una grande Emanuela Valente, quindi ascoltatela, sentitela per il tutto, cosa succede in città. Infine sabato dalle 18 alle 18.30 su Cusano Italia TV, canale 264 del Digitale Terrestre, la trasmissione Rotocalco 264 di Roberta Felisiani, dove io dalle 18 alle 18.30 sarò in compagnia di Roberta, che è una grande padrona di casa, e racconterò un po' tutta la settimana entrante dell'oroscopo, l'oroscopo in più. Ogni settimana sceglieremo tre o quattro personaggi televisivi o dello spettacolo che si sono, diciamo, distinti nella settimana e li racconteremo attraverso il giorno e l'anno in cui sono nati. Quindi è un po' una cosa diversa, guardare il gossip attraverso le stelle. Quindi mi raccomando, seguiteci. Andiamo con l'oroscopo di questa settimana, ripeto, dal 14 al 20 febbraio. Ovviamente oggi si inizia con un San Valentino fantastico, quindi la rete è segno di fuoco per Antonomasi, avrete una settimana piena di novità. L'allegria farà parte delle vostre giornate, passerete un San Valentino caldo e avvolgente in compagnia del vostro partner che ultimamente vi contestava a ogni piesso spinto. Avrete qualche grattacapo sul lavoro da sbrigare, ma se affronterete le cose con calma e tenacia non dovrete temere niente. Attenti allo stress, vi lascia senza forze, e voi dovete averle per vincere su chi vi vuole tendere qualche trappola nella professione. 4S, parola d'ordine e novità. Toro, segno di terra, ispirazione e grande spinta verso il cambiamento, portandovi ad osare più del possibile. Questa vostra voglia di fare di più in tutte le cose della vostra vita vi porterà ad essere vincenti sia sul lavoro che in amore. Passerete un San Valentino alla Luna di Miene con il vostro partner di sempre e se siete singoli avrete la possibilità di incontrare tramite amici una persona speciale che vi piace molto, ma che dovrete corteggiare più del solito. 5S, parola d'ordine avanti tutta. Gemelli, segno d'aria, una persona vicina a voi potrebbe essere instabile nuovamente, ma voi dovete fare in modo che si risollevi dal momento negativo che sta passando. Non pensate sempre al peggio, sappiate essere ottimisti. Per San Valentino, programmate una gita romantica con il vostro partner. Una giornata all'insegna della cura del corpo e della psiche. Ne avete bisogno e anche chi sta con voi lo avete messo alle strette ultimamente. 4S, parola d'ordine, amore per gli altri. Cancro, segno d'acqua. Avete sicuramente una situazione più benevola nei vostri confronti rispetto alle settimane passate, ma dovete sempre fare attenzione a non mollare la presa nel lavoro e nelle faccende pratiche. Dovete rinnovarvi e per fare questo dovete guardare oltre il vostro giardino, andando a cercare nuove prospettive lavorative. I cambiamenti sono ben accetti, solo così riuscirete a raggiungere un benessere psicofisico. Inoltre l'amore ha bisogno di essere rivisto sotto una luce diversa. Sappiate riflettere bene prima di voltare pagina o di dare un'altra opportunità ad un rapporto che ultimamente scricchiolava un po'. Un San Valentino con la promessa di rinnovamento. 4S, parola d'ordine, cambiate modo di pensare. Leone, segno di fuoco, arriveranno delle buone notizie in amore. Nuovi spasimanti che non credevate di avere, ma d'altronde ultimamente siete irrisistibili. Agevolate questo percorso di rinnovamento uscendo di più. Ultimamente siete stati troppo presi dal lavoro, potete mollare un po' la presa, non succederà niente di irreparabile. Attenti alla vostra distrazione, potreste scivolare su una buccia di banana e me. Avete la testa per qualcuno che vi piace, perché non lo invitate per San Valentino? Occasione ghiotta per conoscersi meglio. 5S, parola d'ordine, dedicatevi all'amore. Vergine, segno di terra, non state dando attenzione all'amore, anzi tendete a scappare da tutto ciò che riguarda i sentimenti. Il consiglio è quello di buttarvi a capofitto nelle questioni amorose, perché avete bisogno di credere in un futuro radioso, ma per fare questo dovete pensare al presente. Preparatevi a un San Valentino con i fiocchi, cercando di trovare la persona giusta con cui passarlo. Non avrete difficoltà a individuare chi fa per voi. Lavoro sprint. 4S, parola d'ordine, scelta d'amore. Bilancia, segno d'aria, ritorna la passione per le coppie di lunga data e San Valentino sarà l'occasione giusta per inventire l'amore. Chi vive una relazione a distanza forse è il caso che prenda una decisione, o dentro o fuori rapporto, altrimenti può capitare di avere due storie allo stesso tempo. Nel lavoro nuovi colloqui e anche nuove occasioni di mettersi in luce nella professione. Attenti solo alle discussioni familiari. Non perdetevi in futili motivi. 4S, parola d'ordine, passione. Scorpione, acqua, segno d'acqua. Una persona si è innamorata di voi, ma non illudete ad oltranza se non fa per voi. Nella professione ci sono buone opportunità. State attenti solo alle trattative. Fate sì che tutto sia a vostro vantaggio. Attenti all'alimentazione. Avete voglia di cibo spazzatura. Quando siete un po' nervosetti. Non cedete, altrimenti la linea ne risentirà. Passione alle stelle a San Valentino. Avete in mente di passare una notte di sesso senza pensare al domani. Trasgressione ai massimi livelli. 4S, parola d'ordine e trasgressivi. Sagittario, segno di fuoco. Siete un po' stanchi e in certe giornate avrete voglia di abbandonare tutto e tutti per rifogilarvi in un posto padadisiaco. Non è il momento però di mollare la presa. Se avete qualche problema è normale, capita a tutti. Troverete la luce in fondo al tunnel molto presto. Per ora abituatevi al nuovo, senza desiderare di ritornare al passato. Perché non fa più per voi. Con il partner giocherete la carta della sorpresa a San Valentino e l'altro o l'altra sarà entusiasta della vostra fantasia e imprevedibilità. 4S, parola d'ordine e non demordete. Capricorno, segno di terra, eccedete troppo con il cibo. E questo non va bene. Non sareste contenti di vedervi ingrassati e poco attraenti. Correte subito ai ripari, mangiando sano e facendo attività fisica. C'è qualcuno che fa dei pettegolezzi su di voi. Cercate di individuarlo e rimetterlo al suo posto con classe e un pizzico di perfidia. In amore a San Valentino, concedetevi senza decriminare. Accogliete e ascoltate l'altro come non avete mai fatto. 4S, parola d'ordine e attenti alla linea. Acquario, segno d'aria, non pensate al passato, è il presente e il futuro quello che conta e a cui voi dovete dare affidamento. Torna il sereno in tutte le cose della vostra vita e avrete la possibilità di concretizzare nel lavoro progetti mirabolanti. In famiglie, attenti alle discussioni. Non dovete alimentare la vena polemica del vostro partner. Siate concilianti e fatevi scivolare le cose. San Valentino, dedicatele all'amore, anche se voi siete anticonformisti e vorreste festeggiarlo in un altro giorno. 4S, parola d'ordine e proiettati al futuro. Pesci, segno d'acqua, avrete qualcuno in famiglia che ha bisogno di voi. Non abbiate paura di affrontare la cosa, anche perché riuscirete alla grande nel ruolo del protettore ad oltranza. Gli ostacoli ci sono, ma li supererete. Nel lavoro avrete gli elogi superiori, siete stati bravi e meritate il plauso degli altri. Siete un po' freddolosi e dormite poco, ma tra poco arriverà la primavera e ritornerete a gioire. San Valentino sotto le coperte con chi vi piace di più. 4S, parola d'ordine e responsabili. Oroscomando finisce qui. Questo è l'oroscopo che va dal 14 al 20 febbraio. Lo potete trovare questa mattina su www.spettacolandotv.it e poi mi raccomando seguitemi sui social, ovviamente su Facebook e su Instagram. Gli appuntamenti li saprete tutti. Giorno per giorno e vi ricordo di guardare sempre 264. Cusano TV e la mia gatta Annuito che dovete guardarlo. Nanà, ma sei impossibile, è proprio un sagittario. Cuspide Scorpione, imprevedibile, ma anche molto simpatica. Ciao a tutti, ma abbiate simpatia anche per Cusano TV e per le trasmissioni, mattina con noi, pomeriggio con noi. Cosa succede in città su 80-900 condotto da Emanuele Valente e su Baghera condotto da Misa Urbano. E da l'altro che non mi ricordo mai mi porterà. Ciao! Ciao!